Cosa stai facendo? Ti ho detto dai fai a fare l'allenamento subito Mi raccomando gli esercizi 4 a 4 fino a che non arrivi a dispari Va bene? Eh, chi? Io? Eh sì Veramente? Sì, è certo Ora, ora, ma con tutti gli allenatori che ci sono Ma proprio a me Che cosa ci vuoi fare? Non è un bel periodo per Mourinho? Eh, perché sta litigando nel modo più tecnico-tattico con Pogba Ah no, guardi che lei non ha capito Beh, io credo che, insomma, diciamo che manca fluidità in difesa Ci vuole un giocatore che riesca a sciogliere gli intasamenti di gioco Beh, c'era un po' di nervosismo Io ho cercato di caricare la squadra Le ho caricate, le ho motivate Poi i ragazzi sono tornati in campo E sai che è successo? Cosa è successo? Un cazzo